Nel piano di ricostruzione avete avuto delle annotazioni serie da proporre e da inviare alla Regione di Campania. Che cosa vi aspettate? Insomma ci sarà un braccio di ferro a questo punto con la Regione che potrebbe rallentare le operazioni? Assolutamente no, siamo stati appena convocati dopo le nostre note mandate in Regione di Campania dal Presidente e quindi credo che in settimana prossima già ci sarà questo incontro dove la Regione ha fatto ben capire che accetterà il confronto quindi un dibattito sul piano già presentato pronta anche a modificarlo e a cambiarlo. Quindi questa è di oggi questa notizia ed è sicuramente una buona notizia. Per quanto riguarda la presenza del Capo della Protezione Civile qui ciciliano è un buon segno perché è una delle sue prime uscite. Fare tra le prime uscite quella della visita ai nostri problemi qui a Casamiccio ma in particolare sull'Isola Dischi è un buon segnale che fa stare tutti più tranquilli e sereni perché noi temiamo sempre nella qualità di amministratori locali ma anche nella qualità di cittadini di quest'Isola che passato il momento, passato il tempo possa venire meno quella tensione di cui invece abbiamo bisogno. Tensione sia a livello centrale del Governo, a livello regionale perché abbiamo fatto tanto ma c'è tanto ancora da fare quindi non abbassiamo la guardia su questo. La maggiore eccezione è stata che secondo noi in modo illegittimo, addirittura anticostituzionale hanno travaricato le loro competenze andando a pianificare dal punto di vista urbanistico un territorio senza un confronto e andando a invadere il campo delle autonomie locali dei comuni perché quella è prettamente una materia dei comuni. Quindi quantomeno ci voleva un confronto per andare a pianificare anche zone non interessate dal sisma. Quindi sono andati ben oltre il loro mandato ma sono andati anche male perché poi nella stesura di questo piano hanno dimostrato di non conoscere bene il territorio e forse neanche di conoscere bene gli edifici colpiti dal sisma e quelli non colpiti dal sisma. Però come dicevo si è attivato adesso il meccanismo istituzionale che ci vedrà da qui a breve riuniti tutti intorno a un tavolo quindi credo che poi andremo di fronte a una soluzione della problematica. Intanto si sintetizzano come un'accelerazione notevole dell'ultimo anno. Sicuramente sono tantissimi cantieri privati in corso, molti lavori sono già stati ultimati, sono state revocate le ordinanze di sgombro quindi molte famiglie sono tornate già nelle proprie case dopo aver effettuato e messo in sicurezza i loro fabbricati. È finalmente partita la ricostruzione pubblica con i primi due appalti già affidati e i lavori già in corso che riguardano due importanti plessi scolastici quindi diciamo che finalmente possiamo dire che a distanza di tutti questi anni si è avviato l'iter della ricostruzione. Ora ci vorrà il tempo che ci vorrà, ovviamente ci vorranno anche ulteriori risorse, lo abbiamo chiesto anche oggi al capo della protezione civile, abbiamo ancora risorse per pochi interventi, adesso abbiamo bisogno di ulteriori impegni da parte del governo, magari diluiti negli anni, impegni che tra l'altro sono stati già chiesti con delle rendicontazioni di lavori fatti e di tutto quello che c'è da fare, quindi con dati precisi e devo dire avendoli visionati che sono impegni che secondo me il governo potrà assumere proprio perché diluiti nell'anno non si tratta di grandissime cifre per un bilancio come quello nostro nazionale. Come dicevo intanto di avere fiducia perché finalmente l'iter si è avviato, quindi molti cittadini, non tutti a dire la verità, certezze alcuni l'avranno dopo l'approvazione del piano di ricostruzione, ma molti cittadini oggi già conoscono quello che sarà il loro destino, se potranno tornare in casa, se potranno presto avviare i lavori, se dovranno andare via. Per altri attendiamo il piano di ricostruzione perché quello sarà poi la definizione totale della pianificazione dove ogni cittadino saprà il proprio destino, quindi il piano di ricostruzione dovrà dire anche questo e questa è un'altra delle lacune di quel piano, cioè prevede una serie di delocalizzazioni senza prevedere dove andranno quei cittadini, questa è una grave lacuna che abbiamo evidenziato e che dovrà essere assolutamente risolta e eliminata.